Vacanze finite. Ed eccomi tornato anche qua. In realtà le mie vacanze sono finite già da un pezzo, più o meno da un mese, ma sono una di quelle persone che proprio non riesce a rinunciare alle brutte abitudini. Sì perché nelle mie vacanze, nei miei 15 giorni di ferie, ho fatto quello che mi piace di più fare al mondo, e cioè non fare niente. E dopo le vacanze, riprendere i ritmi di lavoro, il piano editoriale, il progetto musicale, questo progetto su YouTube, non è propriamente facile. Ed ecco perché il motivo di questo video è proprio come raggiungere i propri obiettivi. Ma sempre dopo la sigla. Voltaire diceva che il meglio è nemico del bene. Questo vuol dire che provare ad essere sempre i migliori, provare sempre il modo migliore per fare qualcosa, trovare il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi, spesso produce un effetto boomerang, cioè ci porta alla ricerca costante di quello che è meglio e in realtà ci ferma e ci mette in una condizione di inerzia, senza cioè provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ed ecco il perché di questo video. Non voglio fare scivolare questo video in un discorso psicologico, parlando per esempio dell'effetto bourneau, che affligge un po' tutte quante le persone che devono raggiungere degli obiettivi e che spesso non ci riescono. Voglio soltanto precisare però che la perfezione non è lo strumento necessario per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Perché sono molto più importanti la diligenza, la flessibilità e la perseveranza. Perché queste sono delle qualità che sono sicuramente migliori e molto più utili rispetto al perfezionismo. Pensate per esempio che Google ha avuto il coraggio di premiare i fallimenti dei propri dipendenti e questo con l'intento proprio di eliminare le ansie e impedire così l'inerzia e le nuove iniziative dei propri collaboratori. Ma quindi come fare per raggiungere i propri obiettivi, gli obiettivi che ci siamo prefissati? E voglio condividere con voi proprio tre punti fondamentali che mi sono stati di assoluto aiuto. Primo, partire dal perché voglio raggiungere quell'obiettivo, che non deve essere per forza un perché materiale. In questo mi è servita tantissimo la lettura di un libro molto bello di Simon Sinek che si chiama proprio Partire dal perché. E lui utilizza una metafora, un'allegoria che è quella del golden circle, cioè il cerchio d'oro. E secondo lui questo cerchio è formato da tre cerchi concentrici, dall'esterno verso l'interno, dove il primo è rappresentato dal che cosa faccio, il secondo, quello più interno, invece è rappresentato dal come faccio qualcosa e alla fine il fulcro del suo golden circle è il perché faccio qualcosa. Quindi lo scopo che ci muove ed è il motore che ci spinge a camminare tutti i giorni, a svegliarci tutti i giorni e a sforzarci tutti i giorni. La cosa che però di più mi ha impressionato è che il 99% delle persone, pur senza conoscere il golden circle di Simon Sinek, in realtà utilizza questo percorso, però dall'esterno verso l'interno. Infatti dice sempre prima che cosa fa, poi diciamo come lo facciamo e soltanto alla fine, se ci viene richiesto, diciamo anche il perché e diamo quindi lo scopo delle nostre azioni. Quando in realtà le comunicazioni più efficaci seguono il percorso inverso, partono cioè dal centro, dal fulcro, partono dal perché vogliamo provare ad essere migliori, partono dal perché stiamo facendo qualcosa. Partono proprio dallo scopo, partono proprio dal perché proviamo a fare la differenza, poi come proviamo a fare questa differenza e soltanto alla fine diciamo che cosa stiamo facendo per riuscirci. In realtà Simon Sinek utilizza questa allegoria, questa metafora, soltanto perché parlando del perché noi ci rivolgiamo alla parte più intima di noi stessi e degli altri, ci rivolgiamo proprio alla parte più viscerale, che anche quella che ha il potere decisionale sulle nostre azioni. Mentre invece se parliamo del cosa facciamo o del come lo facciamo, ci rivolgiamo alla neocorteccia, quella regione del cervello che è deputata al linguaggio e quindi è responsabile del pensiero analitico, ma di sicuro non è la parte più intima di noi stessi e non è quella che ci genera e che ci provoca emozioni. Due, dobbiamo concentrarci sulla ripetizione delle azioni e non sugli obiettivi. Per spiegare questo concetto in realtà prendo in prestito due parole che sono molto in uso nel business e sono cioè il concetto di output e di outcome, dove esattamente l'output sono tutte le azioni che noi compiamo, sono ciò che facciamo e che quindi rappresenta anche quello che noi portiamo a termine. Mentre invece l'outcome è la conseguenza dei nostri sforzi e l'obiettivo finale, quello che dobbiamo raggiungere. Per esempio allenarsi in palestra è un output, perdere come nel mio caso almeno 5 kg di pancia è l'outcome, studiare 1500 pagine di un testo universitario sono l'output, superare l'esame universitario invece è l'outcome, condurre delle trattative commerciali è l'output, raggiungere il 120% dell'obiettivo che c'è stato disegnato dall'azienda, quello è l'outcome. Tutti quanti noi in realtà vogliamo raggiungere l'outcome, quindi realizzarlo, ma soltanto che è più bravo di noi sa però che dobbiamo definire nel modo più specifico possibile quelle che sono le azioni che ci porteranno a raggiungere l'outcome, quelli che vengono chiamati in gergo gli obiettivi smart, che poi sono anche quelli su cui abbiamo il pieno controllo e che possiamo anche correggere in caso di errore, senza venire sopraffatti dallo stress del fallimento. C'è però un problema. Spesso, pur facendo tutto quanto alla perfezione, nel miglior modo possibile, lo stesso non riusciamo a raggiungere l'outcome, l'obiettivo finale. Alcune volte può non dipendere da noi, ci può essere un fattore esterno, un motivo qualunque che ci impedisce di concludere l'ultimo miglio. E ogni volta che noi ci prefiggiamo un obiettivo a livello inconscio, noi avvertiamo questa possibilità e su questa spesso ci costruiamo anche degli alibi e che ci frenano però questi alibi, senza neppure accorgercene. Ecco perché oggi voglio proporti un metodo molto più efficace per definire i nostri obiettivi e per realizzarli. È semplice. Una volta che abbiamo definito il nostro outcome, quindi il nostro obiettivo finale, dobbiamo concentrarci e focalizzarci solo e esclusivamente sugli output, cioè sui comportamenti e sugli sforzi necessari che dobbiamo compiere giorno dopo giorno. Per esempio, quindi, dobbiamo definire che ci servono almeno tre allenamenti a settimana per perdere questi miei 5 kg di pancia. Dobbiamo per esempio definire esattamente quante pagine al giorno del testo universitario studiare per poter superare l'esame. Dobbiamo definire quante trattative dobbiamo concludere al giorno per raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo concentrarci quindi sulle nostre azioni, sugli output. Dobbiamo proprio concentrarci e sforzarci di ripetere sempre le azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo finale. Fare più volte quelle azioni ci porta sempre di più a sviluppare e a migliorare le nostre abilità. E se abbiamo anche l'umiltà di imparare dagli errori, i risultati arriveranno lo stesso. Dobbiamo imparare dai nostri errori, dobbiamo sperimentare delle nuove tecniche, finché non diventerà tutto quanto più semplice. Quindi quando pensiamo ai nostri obiettivi, dobbiamo concentrarci non più sulla perfezione delle nostre azioni, ma proprio sulla ripetizione delle azioni necessarie per raggiungere quell'obiettivo. Terzo, dobbiamo trasformare i nostri comportamenti in abitudini. Questa è la cosa più complicata di tutte, e infatti forse ci farò anche un video al riguardo perché io sono un po' di coccio. Ma dobbiamo trasformare i nostri comportamenti in abitudini, perché una volta che capiamo che gli obiettivi sono il risultato della ripetizione di determinate azioni, dobbiamo proprio creare un sistema all'interno del quale è molto più facile ripetere queste azioni. L'obiettivo quindi dobbiamo cominciare a definirlo come un evento, e invece le azioni continuative sono il processo necessario per raggiungere questo evento, quindi per raggiungere l'obiettivo. E paradossalmente potremmo addirittura dimenticarci dell'obiettivo e raggiungere lo stesso risultato, soltanto perché i nostri comportamenti sono diventati una routine, sono diventati un'abitudine. Ora voglio concludere tutto quanto con una frase a cui sono molto affezionato di Julio Velasco, esattamente non esistono cose facili e cose difficili, esistono soltanto le cose che so fare e le cose che non so fare. Ebbene io mi devo concentrare a imparare a fare proprio ciò che non so fare, e da lì diventa tutto quanto più semplice. Ciao, alla prossima!